face to face il programma di approfondimento di radio dgs il nostro obiettivo tutta la verità perché il ragazzo sembra squilibrato quando è qui non è normale non è che magari ha una vita diversa no e da allora la juve non ha più vinto la champions perché non mi hanno più chiesto i dati perché ce ne sono stati tre di conte cinque di allegro uno di sarri poi uno di conti quindi come spendo bene i miei soldi io sono felice quando lo vedo crescere così è come vedere crescere scamacca per me lui è scamacca puntata speciale di un face to face estivo in studio con noi abbiamo ad ambra vitiello e a fabrizio ferrari in comune cosa avranno questi due personaggi lo sport è proprio per questo infatti la nostra ambra vitiello è una conduttrice sportiva sport italia se non ero anche influencer abbastanza conosciuta sui social invece il nostro giornalista il nostro giornalista italiano fabrizio ferrari posso dire che ci mettere un'ora a parlare della la tua carriera molto molto importante scrive per tantissime giorni insomma in testate giornalistiche non solo programmi televisivi forse tutti i programmi televisivi calcistici ma adesso non esageriamo quasi dai dribbling novantesimo minuto tiki taka insomma quasi tutte direi vabbè se lo dici tu comunque io hai detto giornalista italiano in realtà sarei italo belga perché mia madre era belga però è una particolarità che non si trova da nessuna parte sì in effetti non scrivi soltanto per testate italiane ma anche per quella inglese è importante dicela tu qua daily mail che è il primo quotidiano inglese e in pochi sanno che ho vissuto a praia tanti anni quindi diciamo dove hai nascosto nelle villette marlane ho ho fatto l'elementare in via verdi 26 i primi quattro anni e ogni anno questo è il secondo anno facciamo il ritrovo appunto della nostra classe ci troviamo in una decina quelli che che possono adesso per l'appunto in questi giorni ci sarà la seconda edizione anche te ambra qui insomma era di nuovo sì io sono qui in vacanza perché ho casa qui una seconda casa qui a praia e quindi diciamo che io ci sono molto legata a questa terra perché ci sono cresciuta ho passato fondamentalmente tutte le stati della mia vita finora qui di base sono sempre qui poi ovviamente mi piace viaggiare quindi mi muovo mi sposto direttamente da qui però quest'anno uniamo la vacanza e il lavoro uniamo l'utile al dilettevole sì sì perché è stata anche presentatrice di un concorso di bellezza sì perché sono presentatrice di un concorso di bellezza che si chiama miss modell'ara d'arte e appunto stiamo facendo un vero e proprio tour tutte in tutti i paesi della costa cosentina e quindi una bella estate siamo qui insomma in maniera amichevole un salottino comunque tra amici quindi non parleremo di ciò che fate lavorativamente anche perché voglio di vi conoscono già quindi cosa possiamo chiedere ad esempio tu che sei un giornalista cosa avresti fatto oggi cosa saresti se non avessi fatto il giornalista non saprei adesso come adesso da piccolo per esempio mi ricordo che all'elementare volevo fare il medico poi dopo però all'elementare visto qua si giocava a calcio tutti i giorni quindi nasce la passione per per il calcio mi ricordo che alle villette marlane si giocava tutti i pomeriggi sabato e domenica compresi poi dopo ho iniziato a seguire il calcio alla radio quindi la domenica era totalizzante sul calcio poi mi sono trasferito a rezzo che quell'anno la rezzo era andata in serie b e quindi dopo peggio mi sento e dopo avevo i primi nei primi anni del liceo ho iniziato a scrivere un giornale locale però seguivo la rezzo e poi dopo mi ricordo il primo articolo che appunto facevo la seconda liceo il primo articolo pagato sull'arezzo per un per l'adice di trento fabrizio secondo me dovevi fare il giornalista e basta potendo tornare indietro chissà quante altre cose magari con quei sogni nel cassetto capito quelle quelle robe non mai fatte rimaste lì accantonata non c'è una cosa proprio un desiderio qualcosa no qua mi sarebbe piaciuto proseguire anche gli studi a praia dopo le elementari quindi perché c'era un'amicizia forte che poi chiaramente si è persa insomma quindi per me è importante anche quello poi dopo la professione come fai a dire avrei voluto avrei fatto tanto però insomma infatti proprio questo rapporto che che ci tiene anche dopo 40 anni sembra che la scuola sia finita l'anno scorso è una cosa bellissima questa e questi sono i valori no infatti qualcuno mi dice ma come mai sono passati così tanti anni visto le amicizie di solito sono alle superiori invece noi eravamo una classe molto compatta e un gruppo cioè secondo me anche il fatto insomma come posso dire l'atmosfera che si viveva insomma io sono molto legato ancora a praia se ci torna perché mi trovo bene insomma con la gente insomma è speciale per certi versi è una bella cosa tu ambra invece cosa avresti fatto beh io sicuramente avrei continuato la carriera nella magistratura perché in tutto ciò io sono anche lavorata in giurisprudenza mi sono lavorata poco prima della pandemia a dicembre 2019 e quindi sicuramente magari avrei continuato appunto nella magistratura però diciamo che io ho tante passioni mi piace poi anche diciamo provare anche nuove emozioni quindi mi piace anche poi variare sono un po' versatile quindi insomma sperimentare cose nuove sperimentare sì nuovi percorsi sì intraprendere anche nuove strade però ho seguito ovviamente la mia passione che per me viene al primo posto ed è quello che mi rende più felice una cosa che mi fa arrabbiare una cosa che fa proprio arrabbiare che non tollerate io per esempio quando trovo magari una persona che che è mediocre e insomma che però insomma pensa ad essere molto di più e fa di tutto per presumptuosa sì così ecco questo tu ambra cosa non tolleri l'ignoranza e la falsità sono proprio due cose che non tollero per niente per niente al mondo e proprio la sono le due cose che mi che mi danno proprio più sui nervi che mi danno fastidio sì parliamo di calcio parliamo di squadre del cuore avrei una squadra del cuore qual è la tua no io più che una squadra io ce l'avevo quando ero piccolo però visto da giornalista se la gente non se ne accorge vuol dire che sto facendo bene quindi non vuoi dirlo diciamo che anche a Tiki Taka quest'anno si vedeva la maglia dell'Arezzo che hanno detto per quale squadra ti fino effetti ero diventato tifoso dell'Arezzo e come dicevo prima fuori dallo studio quando la gazzetta dello sport mostrava i risultati anche della serie D io guardavo tutti i lunedì cosa aveva fatto il Praia e quindi allora c'era il bomber loiero e mi ricordo ancora che negli anni 80 appunto segnava e poi siccome ho molti amici allenatori quindi tifo per le loro squadre in gioco forza qualcuno non lo capisce perché magari l'allenatore passa da una squadra all'altra però è un discorso di amicizia magari se facessero il basket probabilmente tiferei per le loro squadre quindi Sarri come tutti lo sanno basta mettere Fabrizio Ferrari Sarri perché l'ho visto nascere che è alla Lazio è stata al Napoli all Juventus al Celsi e Spalletti che adesso a Napoli quindi tifavo Inter quando era l'Inter a Roma quando era alla Roma quest'anno esordisce in Serie A Massimiliano Albini con la Cremonese Marco Giampaolo con la Sampdoria cioè è un rapporto particolare quindi è una cosa strana ecco tu invece Ambra? Napoli diciamo che anche io sono non dovrei dirlo sono un po' nella stessa nella stessa tua situazione non dovrei dirlo perché quando si fa conduzione sportiva ti consigliano sempre mi raccomando non dirlo dovrei essere più obiettiva no? ma qui siamo tramite però non posso non riesco a non dirlo poi si vede in faccia mi sa guarda super napoletana super napoletana sì sì ma da sempre da piccolina ovviamente perché tutta la mia famiglia siamo tutti tifosi del Napoli quindi c'è proprio da generazione in generazione che bella tramandata esatto sì 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 da mio nonno materno che ci ha trasmesso questo grande amore questa passione per il Napoli perché poi lui è stato molto fortunato in quanto ha vissuto proprio l'epoca di Maradona quindi il Napoli d'oro e andava sempre allo stadio e ha assistito e ha festeggiato alla vittoria dello Scudetto del Napoli ha visto sempre insomma ci ha trasmesso questo grande amore insomma quindi sì ma tu come fai un napoletano a nascondere il proprio tifo poi c'è qualcuno che ti fa Juventus anche a Napoli però certo pochi sono rari ecco sì però abbiamo traditori abbiamo traditori nella nostra terra come d'altro canto sei brava in cucina? sì sono brava perché hai visto forse il mio ultimo shooting intervista no no non l'ho visto però è una domanda che volevo farti nel senso hai un cavallo di battaglia? sì ce l'ho diciamo che sempre come appunto da buona napoletana ovviamente preferisco sempre la nostra cucina no? quindi la cucina campana anche se quella campana è calabrese sai un po' si avvicinano si avvicinano per certi versi è vero diciamo che il mio cavallo di battaglia che poi è anche uno dei miei piatti preferiti sono gli gnocchi al tegamino quindi i famosi gnocchi con la mozzarella con ragù e mozzarella ah i gnocchi li fai te? no i gnocchi non li faccio io in casa oh eh no però c'è un ragù buonissimo un po' il ragù quello stretto napoletano sì sì quello buono io stavo pensando nel frattempo se sapevo cucinare allora ti piace sicuramente mangiare questo lo immagino no 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 proprio c'è uno della faccia che sarà in buon gustaio sì no poi mi diletto ogni tanto a cucinare per esempio su instagram c'era un branzino con i pachino le patate di qualche anno fa e poi durante il lockdown magari qualcosa ci siamo cementati un po' di più eh tutti quanti poi dopo mi piace fare le cose quasi già pronte nel senso che non siano elaborate che poi dopo le devi mettere insomma ero un po' prontine non li salti in padella adesso mi ha fatto una mezza pubblicità però anche quelli quando serve che hai bisogno una cosa la tieni nel freezer poi dopo però so fare anche cose un po' più complicate è il tuo piatto preferito? no a me fondamentalmente piace il pesce ah quindi sei un amante del pesce piuttosto che la carne sì sì è paradossale perché vivio in toscana poi chiaro ogni tanto anche la carne però preferisco il pesce ecco ok che rapporto abbiamo con la musica? parliamo di calcio parliamo di sport a livello musicale visto che comunque siamo in un programma visivo ma parliamo di una radio locale sì buono come tutti penso ma quest'anno ho rimpianto di non essere andato al concerto dei Simple Minds sì perché mi ero ripromesso di vedere il concerto di Madonna di assistere al concerto di Madonna e ci sono stato e quello degli U2 e ci sono stato i Simple Minds per me erano Basco? sì Basco l'ho visto nel 90 adesso te lo dico nell'86 no nell'88 89 a Prato e poi lo volevo rivedere poi a Bologna qualche anno fa però poi lui si è sentito male quindi ha rimandato la data sì e in questi ultimi anni poi non c'è stata mai occasione per tornare ecco comunque l'hai toccato proprio Basco che è uno di quelli preferiti sì fra gli italiani sei invece e io ho un ottimo rapporto un bellissimo rapporto per me la musica è vita cioè io vivo di musica in continuazione quindi sì sì H24 qualsiasi cosa faccio deve esserci sempre un po' di musica di sottofondo a me piace un po' tutto però la mia preferita è quella latina reggaeton quindi un po' sudamericana un po' tanto sudamericana con i tuoi lineamenti un po' che non non a causa direi esatto brava e vorrei concludere ragazzi con essendo in Calabria zona insomma del sud una cosa carina che io amo un proverbio che poi lo sappiate dire nel nel dialetto calabrese piuttosto che no io vorrei concludere con un proverbio quale anche insomma ma con detto latino non no lo sai in latino te nel senso il nostro proverbio un proverbio che si che comunque anche voglio dire che sia uno che conosciate il nostro dialetto piuttosto che uno che preferite o che conoscete cioè c'è gente che non conosce i proverbi eh ah certo ok ok io sono cresciuta coi proverbi ogni io per esempio il latino non sempre è assunt que evidentur che significa ecco lo vuoi sempre precisino professionale non sempre le cose sono come sempre l'ho visto molte volte hai ragione l'apparenza inganna no niente o non è oro ciò che luccica ad esempio si qualcosa del genere più o meno ci facevamo anche una storiella insomma cioè no c'era una storiella di una di un un uccellino che stava morendo di freddo si e che che c'era un signore allettato alla finestra che avrebbe voluto aiutarlo ma non poteva allora di lì passa una mucca che per scaldarlo gli fa la cacca sopra allora il signore alla finestra dice guarda che che stronza la mucca è invece la mucca lo stava aiutando dopo un po' arriva un gatto che pulisce ben bene l'uccellino e quello alla finestra il signore dice ah bravo il gatto invece il gatto dopo essere solo pulito se lo mangia quindi non sempre le cose come sembrano ma non solo non sempre chi ti mette nella M ti vuole del male e non sempre chi ti toglie dalla M ti vuole del bene hai detto una bella cosa è vero una bella morale questa è più una morale sai di quelle favole che fanno anche insegnano ai bambini per spiegare un po' insomma il proverbio la favola e la morale nella favola si adesso che parli di bambini cioè utilizzo questo no a parte io ho scritto anche una favola qualche mese fa eh wow ma Piero Chiambretti il prossimo anno condurrà una trasmissione per bambini speciali quindi se a casa c'è qualcuno che ha un figlio un fratello un nipote che ha una particolarità per cui che ne so un bravissimo pianista uno per esempio già qualcuno mi ha detto io ho il figlio di otto anni che suona benissimo il basso insomma che hanno ecco qualche che sono dei geni della matematica che sono dei futuri conduttori sono dei bravi ecco cioè adesso sta passando la striscia su Mediaset e anche su Instagram di Chiambretti in questi giorni l'ha messo quindi se qualcuno ha un figlio può tranquillamente farlo concorrere bene te invece hai pensato al proverbio? sì per restare in tema appunto di napoletanità come dicevamo ehm o Mariola si sente sempre rubata traduzione simultanea però io la conosco ho pensato di aver capito il ladro si sente sempre rubato che che ha qualcosa diciamo da nascondere è sempre quello che si viene più vabbè possiamo fare il semplice cioè il classico esempio molto semplice si sente sempre in pericolo ecco ecco esatto per esempio in amore la persona più la persona è gelosa più praticamente diffida e diffidente e pensa male del proprio partner perché? perché è la prima persona che magari non si comporta bene anche io ho questa teoria sai sì sì apriremo un dio che servirebbe un'altra puntata in questo momento e quindi insomma io vi ringrazio di essere rimasti in nostra compagnia grazie a te per aver dato il vostro invito qui a face to face un po' rivisitato estivo e vi auguriamo una buona estate nel frattempo arriveranno nuovi programmi e ci vediamo sempre qui su Radio FGS buona estate buona estate face to face il programma di approfondimento di Radio DGS a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.